Una cordiale buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPI-Li, dove si registrano rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'Astra Signi e Firenze Scandici in direzione Firenze. Fare inoltre attenzione ad un veicolo contromano a causa rimozione veicolo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa. Sulla A12 fare invece attenzione al forte vento che si è abbattuto sul tratto tra Sestri, Levante e Carrara. Per lavori alle barriere di sicurezza rimarrà chiusa l'uscita in A11 di Pistoia provenendo da Pisa in orario 22.6 e in A1 l'uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Roma in orario mezzanotte 4. Uno sguardo ai canteri di Firenze in Piazza delle Cure per lavori di riqualificazione fino a fine febbraio restringimenti di carreggiata da Viale Volta a Viale dei Mille. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!